Buonasera, in questo momento il tema più importante di cui parliamo tutti è questo benedetto coronavirus e ci sono tanti modi per affrontare il tema e tutti comunque bene o male tendono a informarsi ognuno nei propri canali preferiti, chi prelilige i sistemi tradizionali giornali televisione e chi invece vuole l'informazione alternativa che si può avere comunque liberamente sulla rete e sui social. Il tema che vedo, almeno che mi viene riflesso dalle persone con cui interagisco o che mi chiedono dei pareri è come orientarsi in questo mare di notizie perché sono molto contraddittorie e anzi spesso la critica che viene data è che sono contraddittorie. Ora, chiaramente vorrei prima di tutto dire che benvenga il fatto che siano contraddittorie perché vuol dire che non c'è un unico pensiero dominante, imposto, ma che c'è libero spazio all'interpretazione individuale. Ma l'interpretazione individuale in qualche modo, dal punto di vista di chi riceve la notizia, è fondamentale. E' chiaro che quando vogliamo invece imporre ad altri la nostra visione diventa anche questa una forma di imposizione quando la vogliamo proporre e sostenere. Quindi l'invito che io faccio è di apprezzare il fatto che ci siano tante fonti alternative e che ognuno a suo modo esprime il suo punto di vista, il suo parere. Per esempio ci sono quelli che diffondono paura perché hanno paura e quindi dicono state a casa, non vi muovete, hanno il terrore di quello che può succedere attraverso questa malattia. Poi ci sono quelli che invece si preoccupano tantissimo per gli altri e quindi lo fanno con uno spirito diciamo di protezione delle altre persone. Poi ci sono i complottisti che ci vedono dietro un grande disegno economico a livello mondiale per un nuovo ordine mondiale o per tantissime motivazioni che sono tutte interessanti e anche alcune molto divertenti. E poi ci sono le persone dalle quali mi sento parte però non è che voglia dire che sia meglio anzi vi prego di filtrare quello che dico e di applicarlo solo se vi sentite in risonanza che si pongono un po' più nella posizione di osservatori dal punto di vista diciamo di quello che succede a livello di eventi mondiali con la coscienza di non poter intervenire direttamente sull'evento, sul macroevento ma che si pongono invece in una posizione se volete di supporto e di aiuto per coloro che invece entrano in diretto contatto, nel mio caso con me. Questo avviene se incontro qualcuno per strada, se è un parente, un amico, un cliente una persona che mi si rivolge direttamente ma anche ovviamente attraverso il mio contatto che ho con le persone che conosco meno ma che magari seguono i miei video. Quindi io quello che l'unico messaggio che voglio proporre non è la mia visione di cosa succederà, di cosa sta succedendo, di chi c'è dietro, di chi c'è davanti eccetera. Ce l'ho, una mia visione però non è questa che voglio proporre perché credo che ci siano tante verità e ciascuno ha la sua verità e che soprattutto siamo noi che creiamo la nostra realtà attraverso proprio ciò su cui concentriamo la nostra attenzione. Quello che propongo è a seconda delle fonti, quando vi incontrate qualcuno che vi vuole dare un'informazione oppure qualcuno che voi andate a cercare per avere un'informazione, c'è un modo che ritengo molto utile per decidere se un'informazione la vogliamo trattenere o la vogliamo rifiutare e è anche molto semplice. Noi dobbiamo connetterci con noi stessi profondamente e sentire se la persona che ci sta dando l'informazione oppure l'informazione stessa, il contenuto dell'informazione ci crea una sensazione di costrizione, quindi di paura oppure se ci dà una sensazione di espansione della nostra coscienza. Siccome il nostro obiettivo è sempre espandere la nostra coscienza l'unico consiglio che posso darvi è nel valutare le informazioni che vi arrivano scegliete quelle che sentite vi espandono e non quelle che vi contraggono perché la contrazione di coscienza non è mai positiva. Questa è l'unica cosa che mi sento sinceramente di poter dire in questo momento. Vi saluto. Grazie. Grazie. Grazie.